Benvenuti alla prima puntata di Non sono favole di Barbara Banco. Al microfono Marco Bignozzi, ospite in studio Barbara Banco. Ciao Barbara. Ciao Marco. Voglio iniziare questa puntata così. C'era una volta un codice a barre posizionato su una tessera sanitaria e tale tessera sanitaria serviva per accedere a dei servizi sanitari o acquistare oggetti ai distributori automatici. Puntini, puntini, puntini. Ma veramente era legata alla sanità italiana. Questo era il motivo per cui c'è una tessera sanitaria. Infatti la tessera sanitaria, che noi ci ritroviamo tutti nel portafoglio, nasconde e cela diversi codici. La maggior parte sono codici militari e codici che si riferiscono alle merci. Nel lato A, che noi abbiamo davanti, troviamo il nome, il nostro nome, che è formato dal prenome e cognome, tutto scritto maiuscolo. Cognome, nome. Mi direte, beh, che c'è di problema. Il pronome non c'è nessun problema. Se non si conosce il diritto, se si conosce il diritto, specialmente il diritto romano, e la de minuzio capitis, vedrete che, se fate una piccola ricerca, troverete che, scritto in questo modo, il cognome, nome, riporta direttamente allo schiavo, alla merce. Nel lato B, invece, c'è una banda magnetica e poi un codice a barre. Cosa nasconde il codice a barre? Niente, semplicemente il nostro codice fiscale. Insieme a altri tre codici, il codice ISO, che è il codice che regolamenta le merci e la garanzia sulle merci, il codice IATA, che è il codice del trasporto aereo internazionale militare e il codice ABBA, che rappresenta le banche associate private. Interessante che sulla nostra tessera sanitaria ci siano queste informazioni, perché dovrebbero esserci dei codici militari su una tessera che noi portiamo dietro e che serve, come dicevi prima, sia alla sanità, sia ad acquistare merci o anche oggi, sempre più restrittivi, i limiti, anche per riprendere le ricevute, prendere le raccomandate, imposta e fare tutta una serie di utilizzi di servizi che sono strettamente legati a questa tessera. Tobì, dicevamo, oltre alla banda magnetica e al codice di ABBA, ci sono dei numeri, una serie di numeri, molto lunga, in fondo. I primi due numeri sono quelli che identificano proprio la tessera sanitaria, quindi l'assistenza sanitaria, mentre i tre successivi invece rappresentano la nazione che utilizza quella tessera sanitaria, nel nostro caso l'Italia. Negli altri tre numeri ci sono le regioni. Poi, per ultimo e non ultimo, abbiamo una serie di numeri che identificano la persona fisica, noi che portiamo in mano quella tessera. Quindi tutto questo numero lunghissimo in fondo rappresenta lo Stato, la regione, l'uomo, no, l'uomo no, la cosa, la merce, che è regolamentata dall'OIATA e dall'ABBA. E naturalmente, naturalmente, per persona fisica non si intende l'uomo come lo intendiamo noi, ma intendiamo comunque una fizione giuridica. Esatto, che è poi l'argomento della prossima chiacchierata. Non favola. Della prossima non favola. Perché? Perché questa tessera, in mano a chi la porta, come dicevamo prima, identifica tutta una serie di codici, identifica tutta una serie di momenti, quindi nazione, regione, finzione giuridica, che sono riferiti all'uomo di paglia. Ogni volta che io la tengo in mano, acconsento all'utilizzo di questi codici. Ecco, questa è una cosa interessante da sapere. Bene, il tempo stringe. Naturalmente ci ritroveremo la settimana prossima insieme a Barbara Banco per una nuova non favola. Per approfondire questi argomenti, entrare nel dettaglio e scoprire tutte le realtà giuridiche, potrete visitare il sito noieiosono.com noieiosono.com Grazie Barbara per essere stata qui con noi. Grazie Marco. Alla prossima non favola. Grazie. 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 Grazie a tutti.